Ciao Stefano, benvenuto tra di noi. Ciao Cristian, è un piacere. Allora, parliamo di formazione dal vivo versus formazione digitale. Tu mi sembra che con noi hai fatto entrambe, giusto? Sì. Nello specifico possiamo dire che formazione dal vivo hai sostenuto? Sì, ho fatto un corso weekend a Jesolo e un master a Roma. Ok, perfetto. Bene, quindi riusciamo a mettere a confronto questi due tipi di formazione? Ci dai tua opinione sull'una tipologia e sull'altra? Sì, allora, i videocorsi manca la parte in cui è possibile interagire comunque con quelli che svolgono il corso. Poter fare domande direttamente purtroppo non è possibile. Si può soltanto vedere, insomma, come i video su YouTube. Esatto. Da questo punto di vista trovo meglio i corsi dal vivo. Però devo anche confessare che sui videocorsi, io li ho presi praticamente tutti, ho trovato molte più nozioni e mi hanno portato quindi molta più teoria. Sì, allora, perché nei corsi dal vivo viene data priorità alla pratica. Infatti, come tu ben sai, ad esempio a Jesu abbiamo destinato cinque ore di ogni giorno alla pratica. Sì. Perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, cioè lo sai anche te la pratica con le ragazze dal vivo non è proprio facile e immediata, giusto? No, infatti. Quindi c'è bisogno di essere supportati. Ad esempio tu dove avevi le principali difficoltà nella parte del vivo? Inizialmente timidezza e non riuscivo, insomma, a darmi la spinta per andare ad approcciare le ragazze. E quante conoscenze poi sei riuscito a fare nell'arco, ad esempio, non so, del corso master l'hai fatto recentemente? Sì, l'ho fatto ad agosto, fine agosto. Ok, perfetto. E quante ragazze sei riuscito a conoscere così una settimana sei riuscito a fare una stima? Direi, allora sono stati quattro giorni perché un giorno è stato di chat e saranno state almeno una trentina di ragazze. E in quel caso i riscontri che hai ottenuto dalle ragazze, cioè ad esempio la prima che hai conosciuto contro l'ultima che hai conosciuto, progressi, cioè la conversazione, ad esempio, com'è stata? Ah, i miei progressi? Allora, beh io quando sono arrivato al master già avevo l'esperienza di tre giorni da Jesolo che comunque già mi aveva tolto insomma un po' di timidezza, un po' di ansia, quindi diciamo che il primo approccio che ho fatto è stato un po' di riscaldamento ma già era andato abbastanza bene. E insomma non mi posso lamentare. Poi sono progredito sempre di più e gli ultimi, l'ultimo giorno sono arrivato a fare insomma un appuntamento istantaneo e quindi è andata molto bene, sono soddisfatto. Ok, quindi possiamo dire che il videocorso serve in primis per darti molto bagaglio dal punto di vista teorico e tu me l'hai confermato. I videocorsi quindi tu li hai presi tutti, Playlover Bond, University, Go-Kart, Dall'Ombrico Baby Playlover, tutti? No, Dall'Ombrico Baby Playlover mi manca perché ancora non seguivo l'Accademia quando è uscito. Ah ok, non seguivo ancora Playlover. Ok, tra l'altro posso chiederti qual è il tuo preferito di questi? E direi il Go-Kart. Ah, il Go-Kart, l'University 2. Eh, piace a tanti sicuramente perché è molto innanzitutto ricca, sono tantissime lezioni, sono 7, 14, 21, 28 lezioni, me lo ricordo ancora. 28 lezioni più c'è il bonus mio di Steve. Ok, e quindi diciamo che nella parte digitale ti vengono date le nozioni che poi però per mettere in pratica devi passare per il corso al vivo perché magari se lo fai in autonomia ti trovi a dover gestire una serie di problematiche che potresti non essere in grado di risolvere senza l'ausilio e il contributo di un istruttore. Sì, giusto. Ok, ok Stefano, va bene. Niente, ok, ti ringrazio per questa chiacchierata, alla prossima, ciao ciao. Grazie, ciao.